Il Sermone Leadership è stato tenuto dal fratello William Marion Branham il pomeriggio di domenica 31 ottobre 1965 al Pine Loan Trailer Park in Prescott, Arizona, Stati Uniti d'America. Il Sermone Leadership è stato tenuto dal fratello William Branham il pomeriggio di domenica Il Sermone Leadership è stato tenuto dal fratello William Branham il pomeriggio di domenica Il Sermone Leadership è stato tenuto dal fratello William Branham il pomeriggio di domenica Quattro ore dopo tutto questo, cominciavo a pensare che mi stessi stancando Non c'è da meravigliarsi che voi ragazzine possiate cantare così bene Voi ragazzine, ragazzini, ascoltate come cantano le vostre sorelle grandi e le vostre madri, cantanti meravigliose Ciò è realmente bello! Chi è questa ragazzina che ha condotto quel cantico? Chi è questa ragazzina che ha condotto quel cantico? Non sei la ragazzina che ho incontrato là dall'altra parte? Certamente hai una bella voce, tutti voi, voi proprio, credo sia il miglior cantare che abbia mai sentito E proprio qui, vi esercitate tutti continuamente? Bene, ve lo dico, voi, voi certamente siete benedetti con un vero buon cantare Mi piace il buon cantare, amo il vero buon canto Ho sempre detto che quando giungerò in cielo voglio andare dove si canta ed ascoltare Non potrei mai saziarmi di canto Sapete, il canto dà coraggio, lo sapete, è vero? I soldati quando vanno in battaglia, sapete che fanno? Suonano e cantano e cose simili per darsi coraggio E quando andiamo in battaglia cantiamo e ci dà il coraggio di andare avanti Vi ringrazio ragazzini per quel bel dono ed è la signora Branham E da parte di Rebecca e Joseph e Sara e tutti noi vi ringraziamo moltissimo È duro da dire, come dire a questi ragazzini No, avete messo da parte i vostri soldi, io non voglio prenderlo Sapete come mi sento, non voglio prenderlo Eppure ho guardato qui in questo biglietto e vi hanno messo dentro una banconota da 10 dollari Ho pensato, posso prenderlo? Ho pensato, come posso farlo? Ma ricordo un piccolo racconto che voi io conosciate Un giorno c'era una vedova che aveva un mucchio di bambini Forse suo, il papà di quei bambini era morto E lei aveva solo due denari E una volta scese lungo la strada Ed erano i soldi della decima Proprio dei denari come voi tutti avete messo da parte E li gettò nella cassa di Dio Gesù stava lì osservandola E mi sono chiesto che cosa avrei fatto se mi fossi trovato lì Probabilmente mi sarei alzato e avrei detto No, no, sorella, non farlo Noi non ne abbiamo davvero bisogno Tu ne hai bisogno per quei bambini, vedete? Ora, non glielo avrei lasciato fare Ma Gesù glielo lasciò fare Vedete, egli glielo lasciò fare Perché? Egli sa che si è più benedetti nel dare che nel ricevere E egli sapeva cosa avrebbe fatto per lei Vedete? Così vi ringrazio ragazzini con tutto il cuore Voglio ringraziare ognuno di voi per questo bel tempo di comunione Fratello Leo e Gene Per me questi sono stati davvero tre giorni di adorazione Perfino fuori, nella giungla Quando cerco di lasciarmi andare Penso d'essere a caccia Per una ragione o per l'altra Vi guardo e vi sento parlare Questo pomeriggio ho avuto il privilegio di visitare le vostre case Non ho mai visto Non sono mai entrato in quel che chiamerò un villaggio In cui abbia visto case E persone tanto pulite e ordinate E con così tanto rispetto per Cristo e per il Vangelo Io non l'ho mai visto da nessuna parte E certamente vi siete avviati sulla strada giusta Continuate a procedere E Dio sarà con voi E sono riuscito a vedere alcuni di voi L'altro giorno ho visto queste sorelle Non le avevo neanche riconosciute Perché tutto quello che potevo vedere Da sotto uno di quei cappucci Erano solo gli occhi e il naso Ed ora credo di conoscervi meglio Per la cortesia del fratello Leo e Gene Che mi hanno portato in giro A visitare le vostre case E sono riuscito a stringere le mani Ai piccoli fanciulli I profeti e le profetesse Dell'epoca a venire Se ci sarà un'epoca a venire Sapete Gesù ama i piccoli fanciulli Sapete egli li ama E una volta c'era un ragazzino Di nome Mosè Di cui parleremo fra un po' Ed era un bravissimo Sapete cosa lo rese E lo aiutò a renderlo Un bravo ragazzo Ebbe una buona mamma Che lo crebbe Vedete ecco di cosa si tratta Lei lo ammaestrò riguardo al signore Voi ragazzini e ragazzine Avete lo stesso genere di mamme Per crescervi Per ammaestrarvi riguardo al signore Obedite loro Sapete una cosa Sapete qual è il primo comandamento Nella Bibbia Il primo comandamento Con promessa Con una promessa Può essere un po' difficile Per voi da capire Questi comandamenti Il primo comandamento È non avere altro Dio All'infuori di Lui Ma il grande comandamento È il primo comandamento Che contiene una promessa Vedete È per i figli Lo sapevate? Vedete Gli disse Figli Obedite ai vostri genitori Il che può allungare I giorni sulla terra Che il signore vostro Dio Vi ha dato Obedire ai vostri genitori E fare quello che state facendo Può darvi sulla terra Una vita più lunga Che il signore vi ha dato Più tempo Per servirlo Spero oggi Di guardare a un gruppo Di predicatori E cantanti Ed evangelisti Del giorno Che deve venire Se ci sarà un giorno Dopo i nostri E c'è solo una cosa Quassù voi Voi uccidete una persona Con la gentilezza Ho mangiato tanto Da non poterne più E non mi era mai stato Offerto tanto Se fossi stato un angelo Sceso dal cielo Non avrei potuto Essere trattato meglio L'unica cosa che posso dirvi è Grazie E quando vi trovate laggiù a Tucson Io potrei non essere in grado Di trattarvi così bene Perché non ne conosco il modo Non possiedo le buone maniere Per farlo Ma farò il meglio possibile Venite pure Il fratello e la sorella Chance Voglio certamente ringraziarli E questo pomeriggio Ho avuto il privilegio Di incontrare la vostra Graziosa Giovane figlia E figlio E per averci lasciato qui La sua casa Aperta per l'adorazione C'erano cose simili Che avevano luogo Nel giorno della Bibbia Sapete Che il Vangelo era So che suona molto insignificante Noi non dovremmo pensare Che non lo è Ma questo è proprio Lo stesso Dio Addio Come loro erano In quel giorno Ricordate Se ci fossero ancora molti anni Guarderebbero qui indietro E direbbero Se solamente fossi vissuto In quei giorni La sua Prescott Se solamente fossi vissuto Capite Ora viviamo in quel giorno Capite Quindi scendiamo Fino alla fine della strada Poi aspettiamo La nostra ricompensa In quel grande giorno Ora apriremo La parola di Dio E leggeremo Ma prima di farlo Parliamogli Solo un momento Caro Gesù Non sono in grado Di esprimere I miei sentimenti E la gratitudine Verso il fratello Mercier Il fratello Goad E tutte queste Brave persone E i loro piccoli fanciulli Come si sono mostrati Gentili Verso noi Sin da quando siamo qui La gentilezza Va oltre a tutto quello Che ci aspettavamo E sappiamo Che sono stati Amorevoli E dolci Noi però Non sapevamo Che saremmo Stati trattati In tal modo Davvero regale E signore Prego che la tua presenza Sia sempre In questo campo Di persone Che lo spirito santo Riempia ogni cuore Qui E che tu Dì a loro Vita eterna E possiamo Noi Mentre oggi Ci rallegriamo Possa esserci Un giorno Senza fine Che quando ci incontreremo Nella presenza Di colui Che adoriamo Ed amiamo E a cui Diamo tutta la lode Per queste cose Fino a quel momento Signore Mantienici fedeli A lui E alla sua parola Nel nome Nel nome di Gesù Preghiamo Amen Ora Stamattina vi ho trattenuti Così a lungo Questo pomeriggio Cercherò Di renderlo Molto breve E parlerò In modo Che potranno Capire i bambini Ed anche I più grandi Voglio leggere Una scrittura Qui Che ho trovato Nel libro Di San Marco E voglio leggere Dal diciassettesimo Versetto Del decimo Capitolo Di San Marco Una parte Or come Egli usciva fuori Per mettersi in cammino Un tale corse a lui E inginocchiandosi davanti a lui Domandandogli Dicendo Maestro buono Che farò Per ereditare La vita eterna E Gesù Gli disse Perché mi chiami Buono Niuno è buono Se non un solo E cioè Dio Tu sai I comandamenti Non commettere adulterio Non uccidere Non furare Non dir falsa testimonianza Non far danno ad alcuno Onora tuo padre E tua madre Ed egli rispondendo Gli disse Maestro Tutte queste cose Ho fatte Obedite Osservate Piuttosto Fin dalla mia giovinezza Then Jesus beholding him Loved him This young fellow And he said unto him One thing thou likest Go thy way Sell whatsoever thou hast And give to the poor And thou shalt have treasures in heaven And come Take up thy cross And follow me And he was sad At this thing And went away green For he had Great possession E Gesù riguardatolo In viso L'amò Questo giovanotto E gli disse Una cosa ti manca Va Vendi tutto ciò Che tu hai E dalla ai poveri E tu avrai tesori Nel cielo Poi vieni E tolta la tua croce Seguitami Ma egli attristato Di questa parola Se ne andò dolente Per ciò che aveva Di gran beni Now To the children And to the adults And all I want to make This little message Just as timely as I can And as quick as I can And I want to take For a text Follow me I want to take For a subject Leadership Follow And someone To lead Leadership And follow me Ora Ai fanciulli Agli adulti E a tutti Voglio rendere Questo piccolo messaggio Quanto possibile Opportuno E quanto possibile Veloce E voglio prendere Come testo Seguimi E voglio prendere Per argomento Leadership Seguire E qualcuno Per condurre Leadership E Seguimi The young People The Remember That The first step That Any of us Ever Made Somebody Led You Mother Remember The first step That Junior The little girl Made They Don't Remember No more But Somebody Led you To your first step La gioventù La gente Il Ricordate Che Il primo passo Che chiunque Di noi Abbia mai Fatto Qualcuno Ci ha Condotti Voi Madri Ricordate I primi passi Che il figlio E la figlia Hanno fatto E loro Non lo ricordano Più Ma Qualcuno Vi ha Condotti Per il Vostro Primo Passo Ricordo Billy Paul Quando fece Il suo primo passo Joseph E tutti loro Quando fecero Il loro primo passo Di solito È una mamma Che si accinge A condurre Un figlio Nel suo primo passo Perché lei Sta in casa Mentre il papà È fuori Che lavora Cercando Di guadagnare Da vivere Ma Esso è Loro Fanno Il loro Primo passo E la sera Quando rientra Il papà Ne parla sempre Oh Papà Lei ha detto Giovanni E Maria Il bambino La bambina Riescono A camminare Vieni a vedere È solo un passo Forse la mamma Ha dovuto tenervi Avete dovuto tenere Il dito della mamma Perché eravate Piuttosto deboli E piuttosto girati Di traverso Sapete Cadere un po' Così avete dovuto Tenere la mano Della mamma Per fare Il vostro Primo passo Ora Qualcuno vi ha aiutati Quando avete fatto Il vostro Il vostro Primo passo E al vostro Vostro Ultimo passo Che mai farete In vita Qualcuno vi condurrà Vedete proprio così Voglio che ve lo ricordiate Al vostro primo passo Qualcuno vi ha condotti E al vostro E al vostro ultimo passo Qualcuno Vi condurrà Dobbiamo essere condotti Sapete Dio ci ha paragonati Alle pecore E sapevate Che una pecora Non sa condursi Da sé Vagherà E si smarrirà E lei Lei non saprà Proprio condursi Da sé E deve avere Qualcuno Che la conduca E a volte Il pastore È supposto A condurre Le pecore Ora Ciò accadeva In passato Ai giorni Del Signore Gesù Egli era Il buon pastore Che conduceva Le pecore Ma oggi Vedete Viviamo In un altro giorno Tutto è cambiato E pervertito Sapete Cosa prende L'uomo Oggi Per condurre Le pecore Una capra E sapete Dove le conduce Quella capra Dritte al macello Quelle pecorelle Non sanno Dove stanno andando Così la capra Sale su un recinto Nel macello E le pecore Non sanno Altro Che seguire Un leader Così Essa le conduce Dritto In questo macello E poi La capra Salta fuori Dal percorso E le pecore Entrano E vengono Ammazzate Vedete La capra Un leader Sbagliato Ma Gesù Il buon pastore Che condusse Le pecore Le condusse Alla vita E le tenne Per mano Vedete Ma qualcuno Deve condurre Le pecore La prima E la gentilezza Della mamma Poi la parola Del padre Dopo che la mamma Vi fa eseguire Il vostro primo passo Allora Guardate al vostro papà Tutti noi Per la saggezza Perché lui è il capo Della casa E lui solitamente Non che lui sia Più intelligente Ma lui Lui è semplicemente Costituito Leader Della sua famiglia Così Seguiamo Quel che il nostro papà Dice di fare Quando dice Ora figliolo Mi piacerebbe Che tu facessi Una certa Certa cosa Allora Gli diamo ascolto Perché è saggezza Ma ascoltate Vedete Lui ha imparato molto E noi dobbiamo Chiedergli Per vedere Cosa ha imparato E poi possiamo Trarne profitto Dalla sua Da ciò Che ha imparato Ci dice Non andare A fare questo Perché io l'ho fatto Mio padre Mi disse Di non farlo Ma io lo feci E questo Causò Che mi accadesse Qualcosa di male Così vedete Noi Quindi lui Papà Ci dice Come agire E cosa fare Correttamente Quindi dopo Che la mamma Ci conduce Fino al momento In cui dobbiamo Apprendere Un po' Di saggezza Dal papà Per capire Poi Ne riceviamo Un altro Riceviamo Un altro leader Cioè Una maestra Una buona maestra Di scuola She tries To teach You and give You an education To fit You better In life Or a place A position That you can You can read Your bible And you can Read the songs And you can Learn of god And read Yourself And then Another thing Maybe you have Business And somebody Writes you a letter Mama Daddy Somebody writes You a letter You couldn't Read See So the teacher She has you Then And she Leads you To 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 Lei cerca di insegnarvi E di darvi un'istruzione Per inserirvi meglio nella vita Per un posto Una posizione In cui voi potete Voi potete leggere la vostra Bibbia E potete leggere i cantici E potete apprendere di Dio E leggere da voi stessi Capite E poi un'altra cosa Forse avrete un'attività E qualcuno vi scriverà una lettera Mamma Papà Qualcuno vi scriverà Una lettera Voi non potreste leggerla Capite Così la maestra Lei allora vi prende Vi conduce Ad imparare A scrivere E a leggere Ed è Una cosa buona Una brava insegnante Che vi insegni bene Ma ora dopo che la lasciate Voi dopo che lasciate l'insegnante Un insegnante dopo l'altro Da un piccolo sillabario Da una piccola prima elementare Avanti Fino a che uscite Dalla scuola superiore O andate all'università Poi quando lascerete L'università E allora l'insegnante Ha terminato di condurvi Capite Ora la mamma Vi ha insegnato A camminare Vedete Il papà Vi ha insegnato Come essere brillanti Ed essere un bravo giovanotto E come prendervi cura Di voi stessi E come comportarvi L'insegnante Vi ha dato un'istruzione Come leggere E scrivere Ora però Che lasciate il papà Lasciate la mamma E lasciate l'insegnante Ora qualcuno Deve portarvi Da qui in avanti Ora chi volete Che vi porti Da qui in avanti Proprio così Gesù Vi porta Da lì in avanti Ora quella È una buonissima Risposta Eccellente Gesù Vi porta Da lì In avanti Ora vedete Questo giovane Di cui stiamo parlando Viene chiamato Il giovane Rettore ricco Ora questa persona Era stata guidata Molto bene Ora sua madre Gli aveva insegnato A camminare E vedete Lui era ancora Un giovanotto Forse appena uscito Dalla scuola superiore Ed era un giovanotto Molto popolare Ed essendo stato Ben ammaestrato Forse camminava Correttamente E così via Come gli aveva Insegnato Sua madre Ed era anche stato Un giovanotto Di successo Perché Osservate Lui era già ricco Ed era appena Un giovanotto Forse di 18 anni Appena uscito Dalla scuola superiore Ed era ricco Ora vedete Aveva avuto Il giusto tipo Di insegnante Per insegnargli A camminare bene E aveva avuto Il giusto tipo Di insegnante Suo padre Tanto che Anche se ancora Giovane Ed era Pieno di denaro Gli aveva procurato Molto denaro Potrebbe essere stato Un vero Anche a quell'età Era un rettore Di successo Capite E quindi Lui aveva avuto Un insegnante Che gli aveva insegnato Insegnato La cosa giusta Come lui voleva Aveva ricevuto La sua istruzione E poi Un altro insegnante Che questo giovanotto Aveva avuto Il che Dipende da come Siete stati cresciuti Ma Questo giovanotto Aveva avuto In casa sua Un insegnante Religioso Ora alcuni Fanciulli Sapevate Che ci sono Molti Fanciulli Che a casa Non hanno Alcun Insegnamento Religioso Il loro Padre E la loro Madre Non credono In Dio E il loro Padre E la loro Madre Bevono Fumano Si azzuffano E La sera Corrono fuori L'un l'altra E cose simili E non cucinano La cena Del loro Figlioletto E figlioletta E altro Non siete contenti D'avere un papà E una mamma Realmente Buoni cristiani Ora Quando avrete Dei bambini Non vorreste Essere Lo stesso Genere Di padre E di madre Come lo sono Vostro padre E vostra madre Capite Ora Ma questo È tutto Buono Ora Questo giovanotto Li aveva avuti Ed aveva avuto Un insegnamento Religioso Vedete Quello era Molto Al di là Di ciò Che alcuni Di loro Avevano Perché Non hanno L'insegnamento Religioso Ma Questo giovanotto Aveva avuto L'insegnamento Religioso Perché Vedete Perché disse Davvero Osservato I comandamenti Sin da Quando era Un ragazzo Ora Anche tutti Voi Avete Buoni Insegnanti Religiosi Ognuno Di voi E voi Ragazzini E ragazzini Adolescenti Tutti Tutti Voi Avete Avuto Buoni Insegnanti Vostro Padre E vostra Madre Qui In questo Campo Hanno Tutto Quel Che Voi Ogni Potenziale Che Conoscete Che Sia Possibile Che Vi Renda Un Vero Uomo Buono E Donna Buona Un servitore Di Dio Perché Perché Ricordate Un giorno L'altro Morirete Oppure Sarete Traslati In cielo E se morirete Prima Della Sua Venuta Sarete Rapiti Per Primi Lo sapevate Sapevate Che Coloro Che Sono Morti Se Mamma E Papà Muoiono Prima Di Voi E Gesù Non Viene Nella Nostra Generazione Sapete Che Questi Papà E Mamma Si Faranno Avanti Per Primi Glorificati Davanti A Voi Vedete La tromba Di Dio Suonerà E i morti In Cristo Risusciteranno Per primi E poi Noi Che siamo Viventi E rimaniamo Saremo Presi Su Con Loro Saremo Mutati In Questo Modo Dobbiamo Ricordarci Che Nella Vita È La Cosa Principale Capite Ora Ecco Nella Vita La Cosa Principale Che Dobbiamo Fare E Di Prepararci Ad Incontrare Dio Ora Ora Solo La Religione Non Funzionerà Vedete Questo Giovane Rettore Qui Disse Maestro Buono Ora Ricordate Prima Che Lo Dica Gli Era Stato Insegnato Come Camminare Bene Aveva Una Buona Istruzione Era Stato Istruito Negli Affari Ed Era Ricco Ed Era Un Rettore Ed Aveva Una Religione Ma Ebbe Di Fronte Un Altro Problema E Questo Lo Abbiamo Di Fronte Tutti Noi La Vita Eterna La Religione Non Ci Dà Vita Eterna Il Religioso È Una Copertura Ma Non Ci Dà Vita Eterna E malgrado Fosse Stato Ammaestrato Dai Migliori Insegnanti Che Ci Fossero Gli Mancava Ancora Qualcosa E Il Giovanotto Lo Sapeva Perché Disse Maestro Buono Cosa Posso Fare Per Ereditare La Vita Eterna Ora Voi Voi Credete Che Gesù È Dio Non È Vero Così Lui Conosceva I Pensieri Del Giovanotto Così Disse Osserva I Comandamenti Ritornò Dritto Alla Sua Religione Per Vedere Cosa Avrebbe Detto Della Sua Religione In poche Parole Disse Osserva La Tua Religione Disse Ho fatto Questo Sin da Ragazzo Ragazzini Come Voi La Mia Mamma E Il Mio Papà E Il Mio Sacerdote Mi Hanno Insegnato La Religione Ma So Che Nella Mia Religione Non Ho Ancora Vita Eterna Vedete Potete essere buoni Non rubate Non fumate Non mentite Non mentite A papà E a mamma Non dite Quella Prima Bugia Perché A dirne Una Poi E' Facile Dirne Un'altra Capite Ma Non Dovete Farlo Non Ditela Prima Sapevate Che Il Vostro Corpo Non È Fatto Per Mentire Sapevate Hanno Un Congegno Ora Che Si Si Applica Ai Vostri Nervi Possono Mettere Una Piccola Fascia Attorno Al Vostro Polso Qui E Ne Mettono Una Da Una Parte All'altra Della Vostra Testa E Lì Allora Potete Dire Diciamo Che Dite Io Ho Mentito Su Questo Ma Posso Dirlo Così Facilmente Che Loro Crederanno Che Sto Dicendo La E e potete dire direbbero ti trovavi in un certo luogo per dire eri seduto in quella casa mobile del fratello chance mentre il fratello branan predicava la domenica pomeriggio di tale giorno e voi dite no signore non ero seduto là no signore sapete cosa dirà quella macchina della verità sì signore tu c'eri sì signore tu c'eri voi dite io non c'ero essa dirà sì tu c'eri perché perché una bugia è una tale cosa orribile il corpo non fu creato per mentire ed è una tale cosa orribile al punto che sconvolge l'intero sistema nervoso quando mentite sconvolge così che vi procurerà ulcere crescita di funghi vi ucciderà e quindi una bugia è una cosa cattiva perché vedete non siete tenuti a mentire a rubare a fare nessuna di queste cose ora così questo giovanotto probabilmente era stato non aveva mai mentito mai rubato ed era cosciente da aver più che mai bisogno della vita eterna così disse cosa posso fare per averla e qui gesù mostra ora che la religione non lo farà così egli gliela rigirò e disse osserva i comandamenti disse maestro ho fatto questo sin da quando ero un ragazzino o piccolo quando ero solo un piccino ho fatto questo ma sapeva di non avere vita eterna così disse allora se tu volessi entrare nella vita vita eterna vuoi essere perfetto allora va a vendere quello che vedete ora va bene avere denaro vedete va bene avere denaro essere ricchi ed essere un rettore ciò va bene ma è il modo in cui agite dopo che lo siete diventati vedete disse va a vendere quello che possiedi e dallo ai poveri quella gente che non ha niente poi vieni seguimi ed avrai tesori in cielo ma il giovanotto aveva tanto denaro al punto che non sapeva cosa farne ora vedete lui era molto popolare quel giovanotto lo era e lui 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 era ben preparato per la vita per il modo in cui suo padre e sua madre e i sacerdoti e tutti gli altri lo avevano preparato eppure sapeva che gli mancava qualcosa ora sto parlando agli adulti lui lui sapeva che gli mancava qualcosa è che non aveva la vita eterna lo sapeva capite la religione non produrrà vita eterna le forme la sensazione sentite qualcosa voi potreste essere spaventati e sentire qualcosa capite piangere è buono gridare è buono ma ancora non l'avete vedete vi trovate di fronte alla vita eterna dite ebbene sono stato un battista fedele o metodista o presbiteriano o pentecostale ma non è quella la questione anche questo giovanotto era stato ammaestrato nella religione del giorno eppure non aveva vita eterna così voleva sapere cosa fare era stato guidato con successo a questo ma quando vi si trovò di fronte rifiutò d'essere guidato alla vita eterna o d'essere condotto le altre sue guide avevano avuto una tale influenza su di lui al punto che lui non volle staccarsene capite ora è qualcosa come quel che sta dicendo il fratello Branham sta andando un po' troppo a fondo per voi vedete l'istruzione va bene dovreste andare a scuola ed apprendere vedete ciò va bene ma non vi salverà possedere denaro in abbondanza va bene potreste crescere i vostri bambini dare loro abiti buoni e cose simili e come papà e mamma hanno lavorato per tutti voi e altro ciò va bene eppure non vi salverà capite o potreste entrare in un laboratorio ed imparare come mettere le diverse cose insieme o dividere gli atomi o qualunque cosa facciano e entrare in un missile e andare sulla luna ma questo non vi salverà ma questo non vi salverà dovete affrontare una cosa la vita eterna dovete affrontare una cosa la vita eterna ma questo non vi salverà e c'è solo una persona che può darvela mamma non può darvela papà non può darvela il vostro pastore non può darvela il vostro leader qui non può darvela tutti quelli che ottengono vita eterna devono venire a Gesù Cristo lui è l'unico che può dare quella parte la vostra maestra può darvi un'istruzione può insegnarvi dovete impararlo vostra madre può insegnarvi a camminare dovete imparare a camminare vostro padre può insegnarvi come essere un uomo d'affari o altro lo dovete imparare ma solo Gesù può darvi vita eterna capite? il vostro sacerdote il vostro leader o così di seguito può insegnarvi la vostra religione potete apprendere il messaggio che cerchiamo di insegnare eppure non vi darà vita eterna dovete accettare la persona, Gesù Cristo, voi tutti lo capite per avere vita eterna dovete accettare la persona, Gesù Cristo ora, ma a volte altre leadership hanno tanta influenza su di noi al punto che non sappiamo cosa fare quando quel tempo arriva ora, che cosa fatale è rigettare la leadership alla vita eterna perché, vedete, è la vita che non può mai finire ora, l'istruzione va bene ci sarà di aiuto qui l'attività va bene il denaro va bene essere un bravo ragazzo e una brava ragazza va bene ma, vedete, quando la vita qui è terminata è tutto, capite? voi adulti, capite? vedete, è tutto d'altra parte dobbiamo accettare Gesù Cristo per la vita eterna solo Gesù può condurvi a questa e, vedete, sebbene questo giovanotto avesse realizzato tutte queste cose a scuola e con i suoi genitori e tutto il resto lui, lui perse la più grande cosa che avrebbe potuto avere la leadership dello Spirito Santo perché Gesù disse vieni e seguimi e voi ragazze che state per uscire dalla scuola probabilmente molto presto vi diplomate alcuni di voi e di voi ragazzi la più grande leadership che ci sia è Gesù Cristo poiché è la leadership alla vita eterna ora, questa leadership si trova di fronte ad ogni essere umano a cui è data l'opportunità di scegliere ed ecco una cosa importante che abbiamo nella vita è di scegliere un giorno o l'altro sapete papà e mamma scelsero di avere un bel bambino e bambina come voi voi tutti siete poi voi avete diritto dopo un po' di scegliere se volete apprendere dalla maestra o no la maestra può insegnarvi ma potete proprio essere un ragazzino cattivo che non apprenderà una ragazzina cattiva che non ascolterà affatto vedete voi voi avete una scelta da fare benché siate piccoli e mamma dice hai preso 10 sulla tua pagella no ne ho preso uno basso vedete ora potete mamma dice ora tu devi studiare e dovete farlo quindi continuare a studiare come mamma vi ha detto come papà vi ha detto vedete dovete studiare ma avete una scelta potete farlo o non farlo potete dire non voglio vedete avete una scelta dopo un po' avrete la scelta di quale ragazza sposerete quale ragazzo sposerete avete una scelta ovunque nella vita e quindi avete di nuovo una scelta se volete vivere dopo questa vita o essere solo una brava persona popolare una stella del cinema o una ballerina o qualcos'altro e guardate qui queste ragazzine con quella voce graziosa che poco fa cantavano quella fanciulla ha dovuto coltivare quella voce lei potrebbe essere una cantante d'opera o una cantante sento le voci di questi ragazzini questi ragazzi potreste essere come Elvis Presley vendere la vostra prima genitura vedete voi non volete questo vedete è un talento che Dio vi ha dato e dovete scegliere chi dove userete quel talento per Dio o se lo userete per il diavolo capite il fratello Leo qui vostro fratello vedete aveva un talento di venire a condurre le persone ora che cosa ne farà entrerà in affari e diventerà un milionario o dovrebbe venire qua fuori e fare una casa dove le persone vogliono radunarsi e accogliere tutti voi bambini vedete dovete scegliere cosa farete ognuno di voi deve fare una scelta ed essa è di fronte a noi ma tutti noi siamo di fronte a questa sola cosa cosa ne faremo della vita eterna vivremo da ora innanzi oppure no quindi dobbiamo venire a Gesù per riceverla l'opportunità di scegliere quella è l'unica cosa che Dio ci ha dato lui non ci costringe a niente semplicemente ci lascia fare la nostra scelta così non dovete essere costretti ma fare la vostra scelta ora seguiamo questo per alcuni minuti adulti e tutti ora e i bambini tutti insieme seguiamo questo giovanotto è la scelta che fece e vediamo dove lo condusse ora queste ragazze con queste belle voci questi giovanotti ora forse crescete sarà che avrete una voce per cantare ora prendete quella sola cosa potreste mai potreste un giorno considerarlo io conoscete questo ragazzo chiamato Elvis Presley avete sentito i miei nastri avete sentito come io non degradi il ragazzo ma quel ragazzo aveva avuto l'opportunità che tutti voi avete vedete è quel che lui scoprì che poteva cantare ed osservate cosa ha fatto proprio la stessa cosa che fece Giuda Giuda Iscariota vendette Gesù Gesù diede a quel ragazzo quella bella voce e cosa fa lui si volta indietro e la vende al diavolo vedete egli deve giungere alla fine della strada capite ha rifiutato di camminare con Gesù ora questo giovane qui questo giovane rettore ricco fece la stessa cosa seguiamolo e vediamo cosa fece senza dubbio per il grande uomo che era probabilmente un giovanotto di bell'aspetto capelli scuri pettinati di lato abiti graziosi le signorine pensavano ragazzi che giovanotto di bell'aspetto o lo avrebbero pensato forse lui avrebbe fatto loro un cenno con la mano ed esse avrebbero flirtato con lui e altro e pensava ad essere una persona eccellente vedete perché era di bell'aspetto era giovane non guardava laggiù alla fine della strada guardava qui sono giovane sono di bell'aspetto sono ricco posso comprare tutto quel che voglio posso prendere queste ragazze ragazzi io piaccio a tutti loro e sanno che sono un uomo eccellente e vedete lui possedeva tutto questo aveva seguito le istruzioni di suo padre e tutto sono molto religioso vado in chiesa ed ora lui poteva seguire questo vedete molto popolare ricco e famoso è lui proprio come oggi come voi avete avuto l'opportunità di diventare una stella del cinema vedete qualcosa del genere oggi la maggior parte dei ragazzi se parlate loro sanno più di queste stelle del cinema di quanto sappiano di Gesù capite e vedete voi voi bambini state apprendendo di Gesù dove loro si siedono e si presenta una commedia in un film o qualcos'altro conoscono gli attori e tutto su ciò tutto il merito a ciò conoscono tutto questo meglio di quello se parlate loro della Bibbia non sanno niente della Bibbia vedete si fa la scelta sbagliata ora un cantante che vende il proprio talento ricevuto da Dio per la fama poi lo vediamo alla fine della vita seguiamolo un po' più avanti sapete cosa dice la Bibbia di questo giovane lui divenne ancora più stimato così a volte il successo non significa che abbiate fatto la giusta la scelta sapete cosa fece uscì ed ebbe ogni divertimento e diede grandi ricevimenti e spese molto denaro e tutto con ragazze e altro e poi si sposò e forse ebbe una famiglia e lui lui si ingrandì tanto al punto che dovette costruire nuovi granai e cose simili e disse vedi non ho seguito Gesù e guarda cosa ho capite? potete potete sentire persone asserire questo ed io l'ho sentito dire ebbene guarda egli mi ha benedetto quello non significa affatto ciò capite? e in seguito i suoi granai si ingrossarono al punto che lui persino disse ebbene anche anima riposati ho tanto denaro e tanto successo e sono un tale uomo eccellente appartengo a tutti i club e ho le ricchezze del mondo nelle mie mani posseggo un gran numero di terre grandi somme di denaro ebbene mai in questo piaccio a tutti nell'essere una persona molto brava ma sapete la Bibbia disse che quella notte Dio gli disse io richiederò la tua anima quindi cosa accadde ora c'era un mendicante un povero vecchio cristiano che giaceva là fuori presso la sua porta e quando loro la Gerusalemme laggiù si mangia sul tetto della casa e le briciole del pane cadono così e i pezzetti di carne e così via arrivano sul pavimento quando le si lascia cadere e non si raccolgono perché tutto a Gerusalemme la vecchia città essa essa è va bene fare qui una battuta sono F.O.B sapete di cosa si tratta mosche sul pane mosche sulla carne mosche sul burro F.O.B mosche su tutto esse saltano fuori in strada nei condotti e tutto il resto e arrivano in volo e vi si posano sopra così queste persone lassù salgono sul tetto dell'edificio e mangiano e poi lasciano cadere questo e poi lo spazzano via e i cani nelle strade mangiano le briciole e lasciava questo povero cristiano giacere là in strada e mangiare le briciole che cadevano dal suo piatto dal suo letto dalla sua tavola e poi dopo un po' quando questi entrò aveva delle piaghe e non aveva niente da mettere sulle sue piaghe il suo nome era Lazzaro e i cani venivano a leccargli le piaghe così poteva cercare di guarire ebbene sapete dopo un po' quest'uomo ricco quando vide che aveva denaro per comprare ogni specie di medicina se si fosse ammalato avere ogni tipo di dottore ma sapete a volte i dottori non possono aiutarci la medicina non ci aiuterà niente può aiutarci siamo alla merce di Dio e lui giunse alla fine della sua strada i dottori non poterono aiutarlo e le infermiere non poterono aiutarlo e la medicina non poter aiutarlo e morì e poi quando la sua anima lasciò il suo corpo vedete lasciò tutto il suo denaro tutta la sua istruzione tutto quel che aveva tutta la sua popolarità gli fecero un grandissimo funerale forse con la bandiera a mezzasta e venne il sindaco della città e gli altri e venne il predicatore e disse il nostro fratello ora è andato in gloria e tutto così ma la Bibbia ha detto che nell'inferno egli alzò gli occhi nel tormento e guardò là molto al di là di quel grande abisso e vide di là in cielo quel mendicante che era stato a giacere là alla sua porta e gridò manda Lazzaro qua giù con un po' d'acqua queste fiamme sono tormentose disse oh no vedi in vita tu facesti la scelta sbagliata vedete quando giunse alla fine della strada per uscire dalla vita era stato condotto dalla religione era stato condotto dall'istruzione era stato condotto dall'influenza del suo successo ma vedete non aveva niente che tenesse la sua mano quelle cose finiscono lì capisci? piccolo? voi adulti certamente cosa io sto vedete lui non aveva niente che lo tenesse il suo denaro non poteva tenerlo i suoi amici con i dottori non potevano tenerlo la medicina non poteva tenerlo il suo sacerdote la sua religione non potevano tenerlo così c'era solo una cosa per lui da fare aveva aveva rifiutato di accettare Gesù la vita eterna così cosa dovete fare sprofondare nella morte nell'inferno che errore fatale fece quel giovanotto quando rifiutò di camminare con Gesù di essere condotto da Gesù rifiutò di farlo oggi tanti giovani fanno quell'errore rifiutando di essere condotti dal Signore Gesù ora vediamo che cosa fatale sia rifiutare la vita eterna ed essere condotti da Gesù una leadership quando disse vieni e seguimi vedete cosa ha detto questo piccolo uomo di bell'aspetto questo pomeriggio quando uscite da scuola quando ve ne allontanate avete bisogno di un altro leader ma lasciate che sia Gesù e Gesù è la Bibbia lo credete? Questa è la vita di Gesù e i suoi comandamenti per noi in forma di lettera così per vedere dobbiamo guardare in questa questo è il piano questa è la mappa che egli ci disse di seguire per per cominciare la vita eterna ora scopriamo che questo giovanotto era perduto ora prendiamone un altro vi piacerebbe avreste il tempo di prendere un altro giovane ricco rettore che fece la giusta mossa vi piacerebbe sentirlo bene ci proveremo ora ora prendiamo un altro giovane rettore ricco che si trovò di fronte alla stessa cosa ora vediamo dove andò quel ragazzo che visse una vita molto buona ma morì ed era perduto nell'inferno ed ora qui parleremo di un altro giovanotto che si trovò di fronte alla stessa cosa era un uomo ricco un giovanotto ed era un rettore ma accettò la leadership di Cristo come il ragazzino ci ha detto poco fa che dovremmo lasciarci condurre lui lo accettò la scrittura per questo si trova se volete cercarlo dopo che ho finito vedete è in ebrei undicesimo capitolo e il ventitraesimo fino al ventinovesimo versetto lasciatemelo leggere va bene questo abbiate insieme a me è solo un po' di pazienza lo volete non vi dispiace se non lo faccio vero vedete così noi proprio leggeremo questo poi dite ho sentito il fratello Branham leggere questo dalla Bibbia capite e sapete quindi che si trova lì non era quello che io ho detto è quello che egli ha detto ora ascoltate qui quello che la Bibbia ha detto di questa piacevole persona vedete ora guardate per fede Mosè essendo nato fu nascosto da suo padre e da sua madre lo spazio di tre mesi perciò che vedevano il fanciullo bello e non temettero il comandamento del re per fede Mosè divenuto grande rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola di Faraone ascoltate e leggendo innanzi d'essere afflitto col popolo di Dio che patire per un breve tempo godimento di peccato avendo reputato il vituperio di Cristo nel lontano tempo di Mosè era ancora Cristo vedete lui è l'unico che ha vita eterna vedete avendo reputato il vituperio per essere chiamato fanatico santo rotolante o qualcosa del genere sapete vedete avendo reputato il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto perciò che egli riguardava rimunerazione ora sapete cosa significa significa questo che Mosè nacque ragazzo povero molto povero il nome di suo padre era Amram il nome di sua madre era Yochebed ed erano molto poveri ma erano cristiani lavoravano duramente si trovavano in schiavitù dovevano fare mattoni di fango e altro per il vecchio re sapete una cosa un giorno la figlia di quel re escese al fiume dove la madre di Mosè Yochebed lo aveva portato e lo aveva messo sul fiume in una piccola zattera così e i vecchi coccodrilli avevano mangiato tutti i fanciulli e li uccidevano gettandoli nel fiume ma lei lo mise proprio là fuori e sapete come tenne quei coccodrilli lontani da lui costruì questa piccola piccola arca in cui lo mise la fece di pece sapete cos'è è la trementina un vecchio alligatore si avvicinò e disse un piccolo ebreo grasso lo prenderò lo sente piangere in quel modo andò laggiù che puzza capite vedete la madre fu condotta come proteggere il suo bimbo così esso vi rinunciò non volle avere niente a che fare con ciò e poi lui andò avanti lungo il fiume un po' più avanti e la sua sorellina di nome Miriam lo seguì lungo il fiume osservava cosa e allora la figlia del faraone uscì e stava andando ad afferrarlo sapete e lo tirò fuori sapete tutti sapete vostra madre pensa che siate il bimbo più bello al mondo vedete lei dovrebbe farlo ma la bibbia ha detto che questo bimbo era realmente bello realmente un bimbo amabile o stava proprio strillando e scalciando con i suoi piedini gli mancava la sua mamma vedete e così sapete cosa accadde allora Dio mise nella figlia del faraone la figlia del re tutto l'amore che una mamma potrebbe avere per un bimbo il suo cuore venne meno per lui disse ecco il mio bimbo ma sapete lei era una donna giovane vedete in quei tempi non avevano questi biberon con cui voi bambini siete stati cresciuti così dovettero andare a prendere una che fosse mamma che avesse avuto un bimbo e che avesse che potesse allattare così Miriam si trovava proprio lì a disposizione disse andrò io a prenderti la mamma giusta bene vai a prenderla sapete chi Miriam andò a prendere la mamma stessa di Mosè proprio così si andò a prenderla quella fu saggezza è vero e così quindi andò a prendere la mamma stessa di Mosè e lei disse prenderò e crescerò questo bimbo per te disse disse sai una cosa ti darò 300 dollari a settimana per crescere quel bimbo e puoi soggiornare nel palazzo vedete come Dio agisce quando confidate in Lui? Vedete quando siete sicuri della fede? Quel bimbo era un profeta, vedete, lei lo sapeva. Così entrarono nel palazzo e lei crebbe Mosè e la mamma, la sua stessa mamma ed ebbe 300 dollari a settimana per prendersi cura di tutto. Pensateci! E poi, sapete, dopo un po', dopo che andò avanti per un po', Mosè cominciò a diventare grande abbastanza da leggere e scrivere. Lei gli insegnò come leggere e scrivere e poi gli disse, disse, Mosè, tu sei nato come un bambino giusto, tuo padre e Dio abbiamo pregato, Dio ci ha rivelato che tu sei un profeta e sarai un liberatore del popolo nei giorni che verranno. E sapete, quando lui diventò grande, allora cosa fu? Fu adottato nella famiglia del re! Oh mai, non dovette! E guardò fuori sul suo popolo e non avevano abiti, erano cristiani e piangevano e quei sorveglianti induriti che li frustavano con le fruste e il sangue schizzava dalla loro schiena. I suoi cugini e gli zii, il papà e la mamma, tutti loro li frustavano con fruste là fuori, in quelle buche di fango e così, ma Mosè, essendoci qualcosa giù in fondo al suo cuore, sapeva che loro erano il popolo promesso di Dio, lo sapeva. Ora, la cosa successiva che avrebbe fatto era di diventare re, sarebbe stato re su tutto, un uomo ricco, mai tutto il denaro d'Egitto, e a quel tempo l'Egitto controllava il mondo. Ma guardate, la Bibbia ha detto che lui aveva reputato il vituperio, essere come un impastatore di fango là fuori, un cristiano, quando li prendevano in giro e ridevano di loro, li prendevano a calci, se rispondevano qualcosa li uccidevano, vedete. Ma Mosè scelse di andare con quel gruppo invece d'essere chiamato il figlio del re. Osservate questo, vedete, poiché vide il tempo della fine, vedete quel giovane ricco? Ma lui vide Gesù, come noi lo vediamo in una visione, che il tempo della fine è quello che compenserà. Ora, ed egli accettò la leadership di Cristo, e Mosè reputò il vituperio tesori maggiori. Sapete a volte quando voi ragazzini siete a scuola, i ragazzini diranno delle parolacce, e vogliono che anche voi tutti le diciate. Voi ragazzine? Le ragazzine diranno cose cattive, vorranno che anche voi tutte le diciate. Dite, no, io sono un cristiano, dicono, oh tu grande effemminato. Sapete, continuate così, vedete, reagite, dite, sono lieto d'esserlo, vedete? Perché, vedete, è quello che fece Mosè, reputò il vituperio di Cristo tesori maggiori di tutto l'Egitto. Ora, seguiamolo, condotto da Cristo, e vediamo cosa fece. Ora, vedete, questo giovanotto era ricco, il giovanotto di prima, ma non volle Cristo, non volle essere un seguace di Gesù, e così lo troviamo molto popolare, forse diventò una stella del cinema e ogni cosa grande in tutte le cose che poteva fare, tutto quel che voleva, ma, quando morì, non aveva nessuno che lo conducesse. Così, la sua istruzione, quella era buona, il suo denaro, quello era buono, ma quando giunse la morte, era finito tutto, non poteva usarlo più, non poteva comprare la sua via per il cielo, e non poteva, con la sua istruzione, non poteva andare in cielo, vedete? Ma questo giovanotto, ora, aveva tutte queste cose, anche lui aveva una buona educazione, e lui era davvero smart, e anche lui poteva insegnare gli egipti, lui ha insegnato i suoi insegnanti, lui era così smart, guarda come smart lui era. Ma questo giovanotto, ora, aveva tutte queste cose, anche lui aveva istruzione, era intelligente, andò a scuola con sua madre, lo istruì, ed ebbe una buona istruzione, ed era realmente intelligente, al punto che poteva anche insegnare agli egiziani, insegnò al suo maestro, lui era così intelligente, guardate com'era intelligente. Ma sapete una cosa? Al di là di tutta quell'intelligenza, al di là di tutto quel che aveva, le potenzialità che aveva, lui però disse, io abbandonerò tutto per seguire Gesù. Sapete cosa fecero di lui? Lo scacciarono, diventò uno schiavo del fango come gli altri. Ma un giorno, quando diventò un uomo maturo, stava radunando le pecore dietro al deserto, e cosa accadde? Qualcuno mi dice cosa accadde? Cos'era? Proprio così c'era un fuoco nel pruno, ed esso attirò la sua attenzione, si voltò. E sapete una cosa? Avete detto insegnare ai bambini? Ora i bambini si alzeranno, insegneranno a me. Così è questo ragazzino qui, ha colto proprio il, proprio il segno. Chi è il tuo papà? Il signor Chance, è il tuo papà. Questo ragazzo è stato ammaestrato, non è vero? Ognuno di quegli occhietti luminosi che osservano nello stesso modo, l'uno che si mette davanti all'altro, vedete? Così ora guardate, lui lo fece, e quel pruno in fiamme lo attirò e disse, mi volterò e vedrò cos'è. E Dio disse a Mosè, togliti i calzari, il suolo su cui ti trovi è santo. Ti ho scelto per andare giù a liberare il mio popolo, ti darò potenza, puoi percuotere la terra con piaghe, puoi mutare l'acqua in sangue, puoi portare pulci e pidocchi, niente ti nuocerà, io ti sceglierò. Perché? Perché lui scelse Cristo. Capite? Voi scegliete Cristo ed egli sceglie voi. Vedete? Ora egli disse tu hai scelto me ed io ho scelto te per andare laggiù in Egitto. E guardate cosa fece, condusse due milioni di persone, due milioni di persone fuori il suo popolo e li portò nella terra promessa. E ora lui seguì, lo seguiamo lungo tutto il deserto e voi bambini avete sentito il fratello Leo e il fratello Gene e il vostro papà e la vostra mamma raccontarvi tutto quel che accadde nel deserto, come fece scendere pane dal cielo e nutrì il popolo affamato e tutte queste cose. Ed ora scopriamo che lui è un uomo vecchio ora, è molto vecchio, ha 120 anni e si trova nel deserto. E il popolo non lo trattò neanche bene. Vedete, a volte le persone che si definiscono cristiane non vi trattano bene, ma Gesù vi tratta sempre bene. Vedete? Vedete? Così ora troviamo che il popolo si ribellò contro di lui, ma lui rimase retto con loro ad ogni modo e lui era il leader e doveva rimanere con loro. E gli angeli del Signore gli parlarono, non vi piacerebbe che questo accadesse a voi? Quindi fate la giusta scelta e scegliete Gesù ed egli lo farà. Ora scopriamo dunque che alla fine della strada diventò molto vecchio, non riusciva più a predicare la sua voce e diventò debole. Così benedì Gesù e salì sulla cima della collina per morire. Sapete cosa accade quando morì? La... cosa... cosa accade? È esattamente giusto, è esattamente giusto. Ora voi dite dove si trova questo? Ora solo un minuto. Il ragazzo ha ragione, vedete? Fu risuscitato dai morti. Ora, vedete? Vedete? Ora guardate, lo risuscitò dai morti. Perché? Perché ottocento anni più tardi, lui si trovava in Palestina stando ancora con il suo leader, Gesù, che reputò il vituperio del suo nome, tesori maggiori di tutte le ricchezze d'Egitto. Reputò il suo leader stava là, sapete? Egli fu chiamato nella Bibbia, sapete? C'era una roccia che andava con Israele. E quando Mosè fu pronto a morire, salì su questa roccia, e quella roccia era Gesù. Ricordate quando Gesù stava parlando in San Giovanni, al sesto capitolo? Ebbene, gli disse, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, disse. Disse, il padre mio vi diede quella manna. Disse, sì, mangiarono la manna, proprio così, ed ognuno di loro è morto, perché non vollero continuare ad andare avanti, vedete? Disse, ognuno di loro è morto, ma disse, io sono il pane di vita che procede da Dio dal cielo. I nostri padri bevero da una roccia, Mosè percosse la roccia e disse, e le acque sgorgarono. Disse, io sono quella roccia che stava con lui. E guardate, quando Mosè morì, salì su quella roccia, sapete cosa accade? La Bibbia disse che gli angeli vennero a prenderlo. Che differenza da quell'altro giovanotto. Quel giovanotto, vedete, quando morì, non aveva nessuno che lo tenesse. Così sprofondò tra le tenebre, nell'inferno, e ora si trova là. Lì, allora, quando Mosè uscì dalla vita, quando se ne andò, aveva preso un leader. La sua mamma lo aveva condotto correttamente, suo padre lo aveva ammaestrato correttamente, e poi, quando diventò maggiorenne, un giovanotto allora disse, vedo la vita eterna. Se scenderò con questo povero popolo trascurato e camminerò con loro, perché sono il popolo di Dio. Non devo farlo, potrei essere re, ma non voglio essere re. Posso avere tutto il denaro che c'è in Egitto, poiché ne sarò il possessore. Non lo voglio, preferisco camminare con Gesù. E inoltre, quando giunse alla fine della vita, e poi quando cominciò a uscire dalla vita, c'era il suo leader che lo prende per mano. Non volete quel leader? Non vogliamo ognuno di noi quel leader che lo tenga con la sua mano? Centinaia di anni dopo, egli fu visto con il suo grande leader, lo aveva condotto, aveva fatto la scelta della sua giovinezza, e così quindi Dio lo stava tenendo. Sapete una cosa? L'uomo ricco si trova nell'inferno, quel giovanotto ricco che rifiutò. Vedete, ora ricordate, egli aveva un'istruzione, aveva religione, andava in chiesa. Era un bravo uomo, ma rifiutò Gesù, vedete? E questo giovanotto era istruito, e aveva religione, ma volle Gesù. Vedete, Mosè sarebbe stato un uomo molto più ricco di quanto sarebbe stato questo giovanotto, perché possedeva del denaro, probabilmente fattorie e cose del genere, forse la politica e così via, ma Mosè doveva essere re sulla terra, ed egli rinunciò a tutto questo. E sapete una cosa, bambini? Quando non ci sarà Egitto, e quando non ci saranno tesori, ci sarà ancora un Mosè, perché scelse la cosa giusta, vedete? Scelse la cosa giusta per condurlo. Quando non ci saranno più le grandi piramidi, avete letto delle piramidi in Egitto? Uno di questi giorni saranno polvere sotto la bomba atomica. Tutte le ricchezze del mondo, la gente le getterà in aria e griderà e dirà che sono divenute cancerose nella carne, e griderà e urlerà, vedete? Sparirà. Ma coloro che accettano Gesù perché li guidi, non moriranno mai, hanno vita eterna. Sebbene dovete fare una scelta. La vostra scelta determinerà quale sarà la vostra destinazione eterna. Ricordate, Gesù chiede ad ognuno di noi, seguimi se vuoi la vita. Vedete? Leadership. Seguimi, avrai vita eterna. E sono sicuro che anche a noi adulti questo ci procura qualcosa. Se volete la vita, dovete accettarla. Se volete la religione, l'accettate. Se volete quello che dovete fare, cosa accettate? E' ciò che avrete. Ma per me, e per voi, e per questi piccoli fanciulli. Ricordate, avete un invito. Gesù disse, seguimi e avrai vita eterna. Ecco cosa vogliamo fare. E' vero? Ora quanti di voi vogliono realmente seguire Gesù e dire, ebbene, ebbene quando diventerò abbastanza grande ed abbastanza maturo per fare la mia scelta, e per fare quello che non mi importa quanto denaro possiedo, quanto sono povero, quanto di me ridano le persone o ogni altra cosa. Voglio seguire Gesù. Voglio fare la scelta di Mosè, non del giovane otto ricco. Quanti vogliono farlo proprio qui? Ora volete realmente farlo? Voglio che vi alziate in piedi con me. Voglio che mettiate la vostra mano sinistra sul cuore e solleviate la mano destra. Voglio che chiudiate gli occhi ora ed abbassate il capo e diciate queste parole dopo di me. Caro Gesù, impegno la mia vita a te. Ho sentito questo sermone dove due giovanotti fecero la loro scelta. Non voglio andare per la via del giovane rettore ricco, ma voglio andare per la via di Mosè. Tuttavia, sono solo un bambino. Conducimi, caro Gesù, alla vita eterna. Amen. Ora abbassate il capo. Caro Gesù, un giorno qui nel tuo pellegrinaggio sulla terra ti portate a erano quei piccoli come questi a cui ho parlato questo pomeriggio. E i discepoli dissero, il maestro è troppo stanco, ha predicato stamattina. Ha predicato questo e quello ed è troppo stanco. Non disturbatelo. Ma Gesù, tu dicesti, lasciate venire a me i piccoli fanciulli, poiché di tali è il regno dei cieli. Signore Dio, oggi ricevi questi ragazzini e ragazzine qui, in questa scuola di rettitudine, qui dove il nostro fratello si è appartato, qui nella parte del deserto, per portare fuori le famiglie che desiderano separarsi dalle cose del mondo per soggiornare solo per te. Ed ora i loro piccoli sono qui che osservano le vite del loro papà e della loro mamma come noi, noi siamo esempi in tutto quello che facciamo. O caro Dio, creatore dei cieli e della terra, guida i nostri passi, Signore, affinché non facciamo niente davanti a questi piccoli da mettere una pietra d'inciampo nel loro cammino. poiché è detto che sarebbe meglio che avessimo una macina legata al nostro collo ed essere gettati nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Tu dicesti, i loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è in cielo, il grande angelo e angelo custode su ognuna di queste piccole anime. Mentre questo pomeriggio sedevano, con i loro occhietti spalancati, esaminando e rispondendo alle domande ed ascoltando i racconti di bambini della Bibbia, di come questi due giovanotti fecero le loro scelte ed ognuno di loro ha consacrato la propria vita a te. O Jehovah Dio, conducili, proteggili e possano trovare questo grande leader, Gesù Cristo, che li guidarà quando il padre, la madre e i professori sono finiti con loro. O Jehovah Dio, conducili, proteggili e possano trovare questo grande leader, Gesù Cristo, che li condurrà quando il padre, la madre e i maestri avranno finito con loro. Possa tu condurli alla vita eterna, come facesti per Mosè, come le loro umili piccole preghiere, da bambini sono andate a te. Io li rimetto a te, Signore, quale tuo servitore, come trofei e gemme per la tua corona. Usali, Signore, per onorarti sulla terra, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E voi, piccoli bambini, possiate? Ora vi sentite meglio in merito, ora? Sapete che Gesù vi condurrà e vi guiderà, non lo credete? E Gesù vi renderà ragazzini proprio come Mosè e Miriam, la profetessa, e il profeta farà di voi grandi persone. che lo abbiamo accettato, non vogliamo che Egli conduca anche noi? Voglio che Egli continui a condurmi, a guidare i miei passi, a tenermi la mano, capite? Ed anche quando scenderò al fiume, io voglio afferrare la Sua mano. Noi tutti lo vogliamo, è vero? Caro Gesù, conduci anche noi, Padre. Ora ci prepariamo a separarci l'uno dall'altro. Devo ritornare a Tucson. Devo prepararmi per le prossime riunioni. God, I commit this group of people, Brother Leo and Brother Gene and all the followers here into your hands that you'll bless them and love them for giving all their iniquity, healing all of their diseases, keeping them ever in love and fellowship and encouraging those who would get weary. Dio, io rimetto questo gruppo di persone, il fratello Leo e il fratello Gene e tutti i seguaci qui nelle tue mani che tu li benedica e li ami perdonando tutte le loro iniquità, guarendo tutte le loro malattie, mantenendoli sempre nell'amore e nella comunione ed incoraggiando coloro che avrebbero si sono indeboliti. E a volte Satana potrebbe farsi avanti e scoraggiarli, ma ricorda, tu attraversasti la stessa cosa, lo scoraggiamento abbandonato dagli uomini di questa terra e dal popolo. E a volte veniamo abbandonati dagli amici più cari, anche dai parenti, ma c'è uno che abbiamo scelto e egli non ci lascerà né ci abbandonerà mai. conducici, Signore, alla vita eterna. Prego che Tu accorderai che possiamo radunarci molte volte ancora sulla terra e discutere di Te e parlare di Te. E poi in quel grande giorno, quando il mondo sarà finito e tutto il tempo si sarà dileguato nell'eternità, potremo incontrarci in quel grande regno come famiglie integre per vivere insieme per sempre nell'aldilà. Accordalo, Signore! Fino ad allora possiamo operare e lavorare con tutta la nostra forza, mentre il sole è ancora risplendente, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen! Dio benedica ognuno di voi! Prendere! Prendere! Musica 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 La sua vita ci consoli, la sua mano sempre amica. Dio sia con te finché insieme saremo. Finché insieme noi saremo. Presso il trono dell'angiel. Finché insieme noi saremo. Dio sia con te finché insieme saremo. Dio vi benedica a tutti.